Un fizzico di speranza alla finale del Rimini, Simone ben trovato, buonasera, una troppo brutta sconfitta per i Rimini quest'oggi. Sì, ma sicuramente ci tenevamo a far bene e a volte questa voglia di far bene da un po' di parità ci blocca un po' a livello mentale, secondo me. Stiamo giocando, sembra che giochiamo spesso con il freno a mano attirato, con la paura di sbagliare. Purtroppo poi arriva sempre prima il gol degli avversari che ci mette sempre tutto in salita e ci si complicano le cose. Ecco, hai detto proprio una delle chiavi del match. Arriva sempre il gol degli avversari, spesso e volentieri anche per un errore individuale, anche in questo caso è stato così, senza voler chiaramente colpovalizzare il responsabile di turno, però diventa sempre una situazione poi complicata, anche perché qui al Neri il Rimini ancora non ha vinto nel 2023 e quindi tutto diventa più pesante. Ha detto prima Mister Gabur, in un momento della stagione in cui per il Rimini dovrebbe essere tutt'altro che pesante, perché comunque è una situazione di classifica non, diciamo, deficitaria. La situazione di classifica deficitaria non l'abbiamo mai avuta, anche per l'ottima partenza che abbiamo fatto. Forse il peso della partenza che abbiamo avuto, cioè la prima parte della stagione è stata molto positiva e ci aspettavamo un percorso totalmente diverso. Purtroppo bisogna guardare adesso la realtà, la realtà è quella che si fa fatica in questo momento a fare dei punti e fortunatamente siamo ancora ben saldi alla zona playoff, però dobbiamo fare tutto per cercare di mantenere questa posizione e ritrovare soprattutto, in vista poi dei playoff, un altro piglio. Comunque passi in secondo piano, il tuo gol oggi, che è un tiro cross, insomma, comunque che personalmente ti rende... Al di là del gol personale, conta poco, conta sempre il risultato di squadra. Potevo fare gol anche altre volte, l'ho fatto oggi, ma non cambia niente. Speravo di fare dei gol che potesse portare poi a un pareggio e a prendere un punto, perché alla fine Sestonelli fa due gol, tre gol o quattro gol, cambia poco a Rimini alla fine dell'anno. E' importante cercare di arrivare nella zona playoff, perché era l'obiettivo che si eravamo prepissati da inizio campionato. Prima il mister ha citato di clima surreale un po' in casa, cosa succede secondo te? Alla fine ci sono state molte contestazioni, non era neanche la prima volta, tra l'altro. Ma succede quello che è il calcio questo. Tutte le volte le squadre che devono cercare di tenere degli obiettivi, in questo momento faticano tutte. e non giochi con quella libertà a livello, non so per quale motivo, perché forse è un po' di tempo che non facciamo giusto qui in casa. E forse ci pesa tutto troppo, perché non è possibile che vanno giù gli avversari, casomai siamo timidi nell'approccio, nell'aver paura, come per dire sempre, adesso ce lo fanno, ce lo fanno e poi ce lo fanno realmente i gol. Dopo diventa tutto più in salita, soprattutto in una partita come quella di oggi, che giochi contro le canatese e volevi vincere. Quindi pesa un po' il fatto di voler vincere tutte le partite a tutti i costi, perché fondamentalmente l'obiettivo principale di questa stagione l'avete raggiunto, no? Siete una squadra esperta, cioè tanto esperta. Cosa pesa fondamentalmente? Il non essere contenti di quello che avete fatto fin qui? No, ci pesa il fatto di non vincere in questo momento, secondo me, perché le vittorie le avevamo fatte, ma le avevamo fatte tante prima. Forse viviamo con quelle aspettative che c'erano create inizio campionato e inconsciamente pensiamo di essere quelli, di ritrovarci, ma puntualmente facciamo gli scivoloni che poi ce ne accorgiamo, casomai in campo, come se fosse... Prendiamo gol e ci svegliamo, diciamo come abbiamo preso un'altra volta gol, e dobbiamo metterci sempre a rincorrere il risultato e diventa ancora tutto più pesante. Anche perché stiamo parlando di mugugni, ma non di contestazioni vere e proprie, no? Non è che c'è un clima talmente complicato da farsi venire la pressione, no? Ma il tifoso deve fare quello che vuole, ci sono sempre sostenuto, sono venuti anche in 20-25 quelli che erano a Sassari, non è quello il problema. Giustamente l'anno scorso ci applaudivano, quest'anno erano contentissimi, adesso sono più delusi, però il calcio è questo, in un battibaleno può tornare anche l'entusiasmo, rifare una vittoria, riesci a riparare la zona playoff, ti giochi il primo turno e vediamo cosa succede, non lo so, l'entusiasmo fa presto come a tornare, come è andato via. Grazie a tutti.